e la Brescia che se la cava con un disimpegno un po' anche difficile, infatti qui adesso il Verona con questa palla con Mancini che è andato ad affrontare Vass, è nostro, è nostro dai l'out è nostro, 42-14, Cangi con il pallone tra le mani, la rimessa per Pickleman mi pare è uscito a prendersi questa palla, gioca la palla a Fikman sulla destra, poi Doninelli Fikman che riprende la palla, limita l'era, Fikman in area Che gol, 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 che mia, un tiro a giro. Che gol che ha fatto Pichelman. Ha fatto un gol alla del Piero. Ma un gol alla primo del Piero. Quasi commosso Pichelman. È quasi in lacrime Pichelman. Il Pando Vini non ha mai esultato come è esultato questa volta. Quasi in lacrime Thomas Pichelman. Quasi in lacrime. È di un bello incredibile. Sia nella preparazione che nell'esecuzione. Attenzione, tutte e due. Vantaggio meritatissimo. Allora, ha preso palla al limite. Doninelli per Pichelman. Ma è tutto di Thomas questo gol. E poi a giro. Mamma che gol. A giro dal limite. Guardatevelo stasera questo gol. Guardatevi questo gol questa sera. Però Gianluca, quando dicevamo che questo era un giocatore che poteva servire. Mamma mamma che gol ragazzi. Che gol. Thomas Pichelman. 1-0 Verona. 44 minuti. Pichelman che fa la differenza. Gli ultimi attacchi le Brescia. Manca uno alla fine. Il Brescia che ci prova. Pichelman. Incredibile. Un gol bellissimo. Grazie a tutti.